Questa serata è una serata importante per noi perché è una serata della serie che chiamiamo dei seminari serali appunto, con i quali vogliamo offrire ai nostri ex studenti, agli studenti in corso, agli amici del Politecnico e alla comunità in generale, delle opportunità di riflessione su tematiche importanti. Stasera parliamo di un fatto importante come l'esperienza che hanno fatto i nostri studenti durante i viaggi in Cina e in India. Loro stasera lì metteranno a confronto, sono persone queste importanti, non sono studenti nel senso dei ventenni, sono persone tra i 35 e i 45 anni, persone che hanno posizioni importanti nelle imprese italiane. Hanno fatto questa esperienza, prima in Cina, poi in India, ce la riportano per arricchire tutta la comunità di ciò che hanno imparato. Nella seconda parte della serata metteremo a confronto le loro impressioni e i loro racconti con un libro, in particolare il libro del professor Kanna di Harvard, appena tradotto in italiano dalla Francesco Brioschi, editore. Il professor Brioschi è con noi, noi speriamo di poter portare Kanna a Milano, al Politecnico, in tarda primavera o presto in estate. Questa serata fa parte di uno sforzo generale di internazionalizzazione del MIP. Vogliamo essere più presenti all'estero, per quanto lo siamo già, vogliamo che l'estero sia più presente da noi, stiamo attirando quantità di studenti dall'estero non irrilevanti. Noi offriamo un Master in Business Administration internazionale, in cui sono presenti 16 nazionalità. Quindi uno sforzo importante è che noi vogliamo sia utile anche alle imprese italiane, per aiutarle ad essere competitive, per aiutarle a internazionalizzarsi, per aiutarle a sostenere questo Paese nel momento in cui ci troviamo in una crisi profonda dalla quale bisogna uscire presto.